Vicedirettore Connecta, l'app della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, diventa open. Aprendo ad oltre 40 istituti di credito, significa che tutti i conti di chi ovviamente sceglie questa app diventano a portata di clic. Circa due mesi fa, quando lanciammo Connecta, avevamo una ventina di banche popolari e intesa Biper e Ubi come banche che potevano essere appunto aggregate. A distanza di due mesi, grazie al lavoro che è stato svolto durante l'estate dai colleghi della banca e da CBI Globe, che è la piattaforma che interfaccia tutte le banche, siamo in grado oggi di avere più di 40 banche e quindi di allargare questa economia e quindi allargarla a banche molto importanti come BNL, Montepaschi, Banco BPM, ma allagarlo anche ad altri player come Poste Italiane o a banche innovative tipo Limiti, tipo Fineco e con un programma che ci auguriamo nel corso di settembre, riesca ad allargarla anche le principali banche di credito cooperativo. In questo modo, come lei ha detto benissimo, un cliente, anche non cliente di Banca Popolare di Puglia e Basilicata, ma di una di queste banche, può gratuitamente scaricarsi l'app, aggregare questi conti, costruirsi un bilancio familiare integrato e fare pagamenti da dovunque voglia. Ultima cosa, lei ha detto giustamente, abbiamo cambiato il nome in ConnectaOpen, proprio perché l'app si apre, si apre ai non clienti, si apre a tante banche, ma si apre ad essere un ecosistema digitale sempre più ricco. Abbiamo integrato nuovi servizi su ConnectaOpen, quali Plic, che è questo innovativo sistema di pagamento tramite SMS o tramite mail, quindi senza conoscere l'Iban, abbiamo integrato il mutuo digitale, quindi la possibilità di richiedere un mutuo in maniera molto semplice via telefonino e nel corso dei prossimi mesi contiamo di integrarlo con maggiori servizi.